Buonasera a tutti, siamo ormai in piena estate e cosa di meglio non visitare le nostre montagne sui sentieri delle Orobie. C'è chi ci va in bicicletta, c'è chi ci va a fare la passeggiata e quindi avremmo pensato stasera di organizzare lo zainetto dell'escursionista in modo che possiate affrontare la passeggiata serenamente in caso di accidenti. Allora la prima cosa da portare è la crema solare perché se andate in montagna una buona crema solare con alta protezione vi fa abbronzare comunque ma vi protegge dalle radiazioni dannose. La seconda cosa che potete mettere nello zainetto potrebbe essere una crema per la puntura degli insetti, ci sono quelle a composizione naturale tipo a base di geranio e citronella, non sono irritanti anche per la pelle dei bambini e possono essere molto comode perché non si sa mai in giro cosa possiamo trovare. Poi un'altra cosa molto utile potrebbe essere del ghiaccio istantaneo, il ghiaccio istantaneo potrebbe farvi comodo perché siete stati sotto il sole tutto il giorno, vi gira la testa, vi siete dimenticati il cappellino e quindi un bel colpo sul cuscinetto di ghiaccio istantaneo che mi metto in testa e subito mi dà ristoro e mi riequilibria la pressione, oppure inciampo sul sentieri delle orobie e metto subito il ghiaccio per bloccare l'ematoma. Un'altra cosa da portare è una pomata all'arnica, per esempio potete utilizzarla prima di iniziare la passeggiata o la biciclettata spalmandola sulla muscolatura, va a riattivare l'attività muscolare quindi vi prepara alla passeggiata ma quando vi riposate nel rifugio poi intanto che mangiate il panino potete rimassaggiarvi con l'arnica perché è defaticante quindi direi che potrebbe essere una cosa ideale da mettere nello zainetto. Allora senza appesantire poi troppo lo zainetto perché altrimenti non arriviamo più sulla cima, l'ultimo ingrediente è sempre avere tanta voglia di divertirsi senza farsi male mi raccomando e passare una buona estate. Arrivederci a tutti e buona estate!